Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi come vi avevo già anticipato tutti i giorni troverete il video tutorial per completare al meglio le sfide della 14 giorni di Fortnite. Nel video di oggi vedremo tutte le location necessarie dove dobbiamo danzare e che si chiamano i party sulla spiaggia. La prima ragazzi la state vedendo, mi ci sto avvicinando, si trova esattamente alla fine del fiume a bordo mappa dove come potete vedere è presente ombrellone, camion dei gelati e pure i bagni pubblici. Quindi spiaggia numero 1 fatta! La spiaggia numero 2 invece la state vedendo ragazzi, si trova proprio nell'angolino di sprofondo stantio. Come vedete ragazzi di fronte a noi ci sono i magazzini e dalla parte opposta dove stiamo atterrando in questo momento c'è la spiaggia numero 2. Basta semplicemente fare un balletto e la spiaggia numero 2 è fatta! Per raggiungere invece la spiaggia numero 3 ragazzi dobbiamo essere proprio al bordo del fiume dove c'è Neo inclinata. Come vedete davanti a noi l'ologramma del burger ed ecco qua la spiaggia, vi ricordo sempre un bel balletto, spiaggia numero 3 completata! La state sicuramente vedendo sotto di noi ragazzi, la spiaggia numero 4 si trova invece in questa piccola oasi presente nel punto della mappa tra Lande Letali e Palmetto Paradisiaco. La classica oasi che tutti conosciamo ma nella parte un pochettino più piccola ragazzi, quindi spiaggia anche qua, un bel balletto e la numero 4 è fatta! Non dobbiamo spostarci di molto per raggiungere la spiaggia numero 5, la penultima che invece si trova nell'oasi, quella molto più grande che dà in poche parole le spalle al track and oasi ragazzi. Eccola qua, la nostra spiaggetta che vi faccio vedere in mappa è proprio in questa posizione, ma l'avete capito tutti, quindi spiaggia numero 5 fatta!